Strumentale la protesta dei residenti di Villaggio Laguna secondo il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Gli anziani del quartiere hanno raccolto circa 700 firme per chiedere un collegamento bus diretto con l'ospedale e la stazione dei treni. Non ce l'ha con loro che sono sicuramente delle brave persone, puntualizza il primo cittadino, ma con gli esponenti di PD e Movimento 5 Stelle che cercano di cavalcare il malcontento per attaccare questa amministrazione. Sono sicuramente cittadini in buona fede strumentalizzati da questi rancorosi che sono sempre là, che invece che proporre cose continuano a fare la lista della spesa. A questo tipo di modo di fare, insomma abbastanza facile, troppo facile, strumentalizzabile, noi rispondiamo sempre con un bel no e col sorriso. Anch'io ho perso qualche battaglia politica, per esempio Amira, ricorda Brugnaro, ciò nonostante sto collaborando con l'attuale sindaco, forse migliore di quello che avevo proposto io, perché questa cultura del rancore non mi appartiene. Mai direi, adesso lì, fate un'opposizione, corriamo dietro a tutti i singoli lavori perché noi dobbiamo fare opposizione. È un modo sbagliato di vivere, facciamo opposizione nel senso che cercheremo di migliorare le cose, ma dobbiamo fare in modo che la gente, il cittadino, vada bene. Quanto ai cittadini di Villaggio Laguna, conclude il sindaco, siamo pronti ad ascoltarli nelle sedi a ciò deputate. Partecipino, abbiamo i consigli comunali, abbiamo gli assessori, vengono a farci le domande nei luoghi giusti e non soltanto per fare un po' di pubblicità sui giornali che giustamente hanno bisogno di vendere, devono fare notizia, però purtroppo non c'è nulla di serio.